La fidanzata di Lavezzi è stata rapinata del Rolex dopo la fidanzata di Amsic che era stata rapinata dell'automobile. Allora, le dichiarazioni sulla cosa di De Laurenti se mi hanno semplicemente sconvolto. Prima di dare la parola a Stefano Brandini, gli do il calcio nel sedere io a De Laurentiis perché ieri ha detto che, dice come, è uno che viaggia a Napoli con Rolex, non ha capito come si sta a Napoli. Allora, io vorrei far capire al signor De Laurentiis che penserà mica che noi si piglia la spazzatura dei napoletani e gli si dai Rolex in cambio. Penserà mica i napoletani che ci si fa mangiare il grillo dalle mosche. Quindi sarebbe il caso che a Napoli capissero che siamo in Italia, se no fanno un'enclave, si regalano al Marocco e siamo amici come prima. Io proprio non esiterei. Detto, fatto questo appunto, passo la parola a Stefano Brandini. Io capisco che De Laurentiis ci debba vivere in questa città ed è il presidente del Napoli, però insomma si può evitare di commentare a quel punto. Uno bastava che si trincerasse detto una frase fatta, eventi spiacevoli, purtroppo è così, speriamo che insomma chi è stato restituisca alla fidanzata di un nostro idolo l'orologio. Però insomma andare a dire, insomma la gente, cioè che funziona? Che quando si va a Napoli bisogna andare con la scorta ognudi. Se no, allora a Napoli, il motto di De Laurentiis è a Napoli solo d'agosto, così ci si va con l'infradita e costuma. A parte che con me non ci sarebbe parecchio traffico perché io non ci vado, ci vado apposta. Io dove c'è i ladri non mi interessa andarci, capito? Va bene. Né Napoli né Milano. Comunque non è la prima uscita che fa da film De Laurentiis. Un presidente che sicuramente i napoletani adorano perché i risultati parlano di una squadra che dalla C1 è stata portata a livelli importanti del calcio italiano. Ma una persona che a me non sta assolutamente simpatica perché fa del cinema tutto il giorno dalla mattina alla sera. A me mi piace come cineasta, come produttore. Ma la dichiarazione del presidente l'ha fatta l'offre. Va bene, quindi il primo calcio nel sedere l'hai dato te. L'ho dato io. Non mi hai chiesto il permesso, la rubrica è la mia. Scusa, hai ragione. Te sei solo il reggi Moccolo qui e basta, quindi non rompe le scatole. Ora lo tiro anche. Va bene, allora cominciamo con il calcio nel sedere e buongiorno a tutti della settimana. Primo se lo prende Malesani, prima lo aiuta la fortuna perché insomma forse è l'unica partita dove ha meritato e ha fatto benino e è stata a Torino con la Juventus e per il resto dove è andata rubicchiato. Ora che la fortuna è andata a cercare altre squadre perché non è che possono stare tutti con Malesani comincia a parlare di trame contro di lui. Quindi direi che si sente, ricomincia a svolgere quello che ha sempre svolto, il ruolo del perseguitato. Io dico che lui ha una buona squadra, sicuramente ha 6-7 squadre inferiore a lui e quindi ha tutti i diritti e i doveri di fare un campionato assolutamente tranquillo ed ansi forse di pensare anche tra virgolette un po' in grande. Il secondo calcio nel sedere lo prende quel folle di Cellino il quale manda via un allenatore come Ficcadenti che aveva portato il Napoli nelle zone nobili della classifica. Il Cagliari. Il Cagliari, scusami. Il sesto, settimo posto, senza motivo per un pareggio, non mi ricordo che, lo manda via. Per riprendere Ballardini ed ora ovviamente la squadra che senza un motivo varico che aveva trovato un suo assetto, un suo equilibrio, sia tattico che tecnico che mentale si è trovata spiazzata da nonoma metodologia, arranca e anche ieri ha pareggiato grazie a un rigore generoso, grazie a una serie di situazioni che fanno stentare questa squadra. Il terzo calcio nel sedere lo do a Ragneri, il quale ogni volta che vince, vince come ha vinto a Siena cioè in maniera negativa, non giocando al calcio, ribadisce ed è il primo a non essere convinto per lo scudetto ci siamo anche noi. Ragneri si deve rendere conto che quest'anno, io lo stimo tanto come persona perché è una bravissima persona ma si deve rendere conto che quest'anno Ragneri si arriva a fare un campionato dignitoso ad andare avanti più che può anche in Coppa, è già un miracolo. Quest'anno l'Inter è una squadra che non ha un'identità, che non ha un ruolo ha segnato Castagnossa che è stato per tutta la partita un corpo estraneo. Bellissimo il titolo Castagnossa che toglie l'Inter dal fuoco, è un bel gioco di parole. Sì vabbè ma insomma non è che diventa un eroe perché ha fatto una rete, una rete la può fare chiunque. La verità è che l'Inter... Si è un po' casato perché era a vedere, pensate è stato inviato di Chiaretondo TV a spese sue a vedere la Juve, noi abbiamo questi inviati... Anche perché si è provato a mandare una credito per Chiaretondo, ci hanno telefonato perché se manda su due macchinate di ultrase della Lazio dai stiaffi perché si finisce. Il quarto calcino del sedelo lo do all'Arezzo, parlando prima con l'amico Maurizio Polverini ha detto, dice giustamente Stefano guarda che l'Arezzo non ha preso il rigore, è vero? Io do verissimo tutto, il fatto è che l'Arezzo a Todi deve vincere la partita contro l'arbitragico, specialmente quando poi una squadra come l'Arezzo nettamente più forte si trova in vantaggio. Le partite come quelle con il Todi sono partite difficili fino a che non sblocchi il risultato quando lo sblocchi la partita deve essere la tua, punto cioè non ci si può appellare alla prudenza del portiere avversario all'arbitro che giustamente non ti concede un rigore, ne fai un altro e questa è una squadra che non riesci mai a dare quella sgassata la fortuna è che quest'anno non c'è una squadra a mazza campionato il Ponte d'Era pareggia in casa con la Pianese e che quindi tutto sommato la vette lì però d'altro canto si accorcia anche la classifica perché è tornato sul Castelricone ci sono le squadre lì quindi insomma questa è una squadra che secondo me se non vince questo campionato è un delitto perché veramente è un campionato mediocre questo. Concludiamo seriamente dicendo che oggi è il BPT Day che anche i calciatori hanno aderito con l'associazione calciatori all'acquisto dei BTP. Se non aderisce chi ha quadrini chi deve aderire. Quindi anche te, anche Stefano Brandinezini. Con i soldi che mi ho, io allora dichiaro che investirò in BTP tutto lo stipendio, tra l'altro al retrato che devo ricevere da settembre la chiara è tronda tv. Qualunque cifra mi verrà data si parla di 12 euro non so se la sottoscrizione è anche offensiva. Questa ha dei bracci talmente corti che quando si allunga i bracci per allacciare le scarpe scureggia. Pensate voi come ha la pelle tirata. Arrivederci in una settimana. Grazie, sta parlando del direttore. Alla prossima.